merda raga saprate il trucchetto? PC Rattis Central a 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 appena Mastanjouk marare! E' un'assore alcatat! Maaner salika! Maaner salika! DG Rockish Central